il San Michele vince una sfida importantissima per sognare i playoff contro un grande avversario ti chiedo che partita è stata è stata una partita difficilissima già lo sapevamo per noi diciamo che sai benissimo che veniamo da un periodo dove i risultati andavamo sempre in vantaggio ci facevamo recuperare in una partita come questa portare il risultato a casa e soffrire fino alla fine ci fa un sacco piacere siamo contentissimi della vittoria ora dobbiamo arrivare ai playoff per forza oggi è successo il contrario perché due volte in svantaggio le avete tutte e due volte recuperata e poi l'avete vinta nel finale ti chiedo la forza del gruppo sta anche in questa voglia di non mollare mai sì diciamo che durante l'anno si sono visti miglioramenti oggi è la dimostrazione siamo andati sotto come hai detto e l'abbiamo recuperata alla fine devo essere sincero siamo superiori a loro quindi dovevamo vincere dal punto di vista personale oggi è arrivato il tuo gol il secondo gol c'è stato il tiro di Pablo il tuo colpo di tacco ti chiedo che emozione è e soprattutto se c'è una dedica speciale sì certo sono sempre contento dei gol ma la mia dedica è a tutta questa gente che oggi il palazzetto era pieno e sono felicissimo però il gol mio viene in secondo piano l'importante è aver portato il risultato a casa grazie mille e complimenti Miss era una vittoria fondamentale per il futuro del San Michele per le ambizioni playoff contro una grande squadra che comunque se l'è giocata fino all'ultimo ti chiedo che partita è stata sì grande partita sapevamo che che doveva essere una diciamo una partita particolare perché comunque venivamo da un grande risultato a Palermo e dovevamo comunque fare fare bene in casa per dare continuità a tutto il lavoro fatto fino a questo momento sono contentissimo per i ragazzi perché diciamo non hanno mai mollato come anche il sottoscritto ci abbiamo creduto sempre diciamo oggi è ancora più grande la vittoria perché ci dà ancora morale e ci fa capire tanto perché possiamo ancora dare molto a questo a questo campionato il segreto del San Michele per raggiungere i playoff può essere proprio nella forza di questo gruppo di non mollare mai di voler a tutti i posti ottenere questo obiettivo sì i ragazzi lottano hanno sempre lottato però c'è stato qualche problemino diciamo nella gestione del risultato verso la fine come abbiamo visto i tanti pareggi fatti però come ho detto ragazzi i pareggi non sono mai sconfitte ti devono aiutare a crescere e a capire e a valutare gli errori dopodiché si cerca sempre di migliorare e così come stanno facendo e sto facendo pure io insieme a loro cercheremo di dare battaglia fino alla fine del campionato come abbiamo fatto finora grazie mille e complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti